L'informazione di valore sul canale 18. Questa è Esperia TV. Dalla prossima settimana i medici di base saranno in campo per vaccinare i 130.000 oltre otteni calabresi, accordo sottoscritto in Regione. Appello dei giovani industriali calabresi al premier Mario Draghi. Il governo guardia al mezzogiorno. Corrono infrastrutture e materiali, ma anche immateriali. Rilevate troppe irregolarità nelle condizioni lavorative. I carabinieri hanno proceduto al sequestro dell'area portuale di Bagnara-Calabra. Un riconoscimento all'impegno, ma anche alla passione di giovani che hanno scelto un lavoro difficile. Sono stati primati in Regione gli allevatori del futuro. La pagina della cultura Anna Nigro, artista castrovillarese, esporrà le sue opere dal 5 al 19 di marzo in una volta galleria di Sanremo. Sabato 13 febbraio 2021. Bentrovati per l'appuntamento con informazione regionale di Esperia TV. Dalla prossima settimana i medici di base saranno in campo per vaccinare gli oltre 130.000 oltre otteni calabresi. È stato infatti raggiunto un accordo in Regione. Se tutto procede per il verso giusto, già da martedì o mercoledì partirà la vaccinazione sugli ultraottantenni calabresi. Complessivamente sono 130.000. Le somministrazioni saranno effettuate grazie alla disponibilità offerta dai medici di medicina generale ai quali la Regione ha chiesto di dare una mano. In tal senso è stato raggiunto un accordo dopo un paio di riunioni. La grande disponibilità dei medici ad occuparsi di questo compito importante, gravoso, ma nello stesso tempo essenziale mi conferma la grande professionalità e la grande umanità della classe medica, dei sanitari calabresi che ringrazio di vivo cuore per quello che stanno facendo. Sulla vicenda è intervenuto anche il commissario alla Sanità, il prefetto Guido Longo, che ha sottolineato. È un protocollo che certamente agevolerà nella effettuazione della vaccinazione, ma nello stesso tempo ci consentirà di rimanere in situazione di assoluta sicurezza, perché è fondamentale nell'ambito vaccinatorio rispettare le regole di assoluta prudenza nella somministrazione in considerazione delle possibilità successive alla stessa. Siamo molto soddisfatti come hanno risposto i medici, ma non avevamo dubbi su questo, e quindi ad maiora. Oggi è nato dunque il governo guidato da Mario Draghi, e già c'è un appello che viene lanciato dai giovani industriali calabresi al governo. Si punti, dicono i giovani, su infrastrutture materiali, ma anche immateriali. Il presidente Mario Draghi è la più autorevole tra le personalità italiane nel mondo, ed è un bene per l'Italia che la sua guida salda e lungimirante possa aiutare il Paese a uscire dal pantano di questa crisi sanitaria ed economica senza precedenti. Lo affermano il presidente dei giovani imprenditori di Un'Industria Calabria e di cinque presidenti provinciali. Ci aspettiamo da Draghi e dalla squadra di governo che ha scelto una particolare attenzione al mezzogiorno e alle nuove generazioni. La sua sensibilità sul tema della scuola ci ha rinfrancati, e infatti sulla formazione, sull'educazione, sulla creazione della futura classe dirigente che si gioca a una partita fondamentale per l'avvenire. E in questo sarà fondamentale puntare sul sud, perché se riparte quest'area del Paese, riparte l'Italia, e non è solo uno slogan. Per noi giovani imprenditori calabresi è davvero importante che il nuovo governo si attivi per la definizione di un percorso finalizzato alla crescita del meridione, a cominciare dagli investimenti in infrastrutture materiali e immateriali. La transizione digitale e verde, dicono i giovani industriali calabresi, potrebbe sopperire per via telematica alla carenza di infrastrutture materiali che è causa del nostro isolamento. Auspichiamo l'effettivo avvio delle zone economiche speciali, specie quella che ruota attorno al porto di Gioia Tauro, per favorire l'attrazione di investimenti, nonché la gestione delle misure volte a sostenere lo sviluppo dell'impresa direttamente dalle società e autoriti di Stato, senza i meccanismi farraginosi che portano i flussi delle risorse dal livello centrale alle regioni con enormi complessità e ritardi. Il lavoro da fare è tanto, concludono. Il nuovo esecutivo si metta all'opera al più presto. Ultima pagina, l'area portuale di Bagnara Calabre è stata posta sotto sequestro dai carabinieri che sono stati impegnati nell'area costiera al fine di verificare le condizioni ambientali e lavorative del porto. L'intervento è scaturito dall'attività informativa della locale stazione dell'arma ed è stato effettuato con il contributo dei carabinieri del nucleo operativo ecologico di Reggio Calabria. Sul posto sono intervenuti anche i militari del nucleo subacqueo di Messina che hanno scandagliato i fondali per valutarne eventuali compromissioni. I militari del nucleo ispettivo del lavoro di Reggio i quali hanno effettuato alcune verifiche sulla liceità degli impieghi e delle condizioni lavorative nell'attracco di Bagnara. La Procura della Repubblica di Palmi ha chiuso le indagini a carico di due funzionari tecnici del Comune del titolare legale rappresentante di una impresa edile indagati per frode nelle pubbliche forniture falso ideologico e truffa aggravata ai danni del Comune di Palmi. L'inchiesta riguarda gli interventi di adeguamento e realizzazione di alcuni tratti di rete fognaria finanziati con i fondi PON 2007-2013 per un importo complessivo di oltre 1 milione di euro appaltati nel 2015 dal Comune. I lavori hanno interessato quasi interamente la Statale 18 ed hanno comportato lo scavo della sede stradale sulla direttrice Palmi-Gioia Tauro per la posa delle nuove condotte fognare la cui rete giunge al depuratore consortile del Comune di Gioia Tauro. Il Comandante Generale del Corpo delle Capetanee di Porto Guardia Costiera e l'ammiraglio Giovanni Petturino che vediamo in queste immagini di repertorio ha visitato i comandi territoriali del litorale ionico calabrese. Le visite hanno costituito l'occasione per poter incontrare il personale in servizio negli uffici marittimi di Melito Portosalvo, Bianco, Bovalino, Siderno, Rocciola Ionica, Monasterace, Soverato, Catanzaro Marina, Crotone, Ciro Marina, Cariatico, Riano Calabro, Trebisacce e Monte Giordano. Nell'occasione Petturino ha espresso sentimenti di vicinanza alle donne e agli uomini della Guardia Costiera Calabrese. Ed ora andiamo alla regione dove nei giorni scorsi sono stati assegnati i premi agli allevatori del futuro. Un riconoscimento alla volontà e alla passione di giovani che hanno scelto di svolgere un lavoro difficile restando legati alle tradizioni e ai valori della terra e della famiglia. È andato a tre giovanissimi, il 15enne Carmine Lia di Messoraca, il 18enne Pasquale Cerenzie di Cotronei, il 18enne Antonio Greco di Umbriatico, il premio allevatori del futuro proposto dall'Associazione Produttori Zootecnici della Calabria e dal consorzio Bovi in Calabria, patrocinato dal Gal Crotone e dalla provincia di Crotone. È perché ho la passione per gli animali, specialmente per le vacche. Sono contento oggi di avere questa azienda. Sono molto contento di aver ricevuto questo premio e di continuare così con il mio lavoro perché mi piace moltissimo e sono anche contento di aiutare mio padre con questa azienda e lo ringrazio per avermi trasmesso questa passione. La consegna del premio da parte dell'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo è avvenuta nel corso di una cerimonia in cittadella regionale alla quale hanno preso parte anche il presidente della provincia di Crotone Simone Saporito, il sindaco di Umbriatico Pietro Greco e il presidente del Gal Croton Natale Carvello. Io credo che noi questa società la miglioriamo solo con l'esempio, migliore rispetto a tanti giovani che magari sono vittime di devianze e questi giovani invece sono portatori di valori. Fanno sacrifici, hanno seguito le orme dei propri genitori, hanno deciso di intraprendere attività difficili perché quella di allevatore, allevatore di podolica è un'attività difficile che si svolge col ghiaccio, con la neve, col caldo, con tutte le condizioni peggiori. Io credo che questo ritorno anche alla terra, ritorno alla zootecnia sia un messaggio importante che noi dobbiamo lanciare, un messaggio di valori ma anche un messaggio di ritorno verso tradizioni e verso attività sulle quali la Calabria potrà ancora continuare a vivere per i prossimi anni. Io credo che il Covid sia una grande tragedia ma ci offre anche delle opportunità e il nuovo rapporto Roma e l'ambiente, Roma e il territorio e la produzione agroalimentare e zootecnica debba essere la nuova sfida. Garantire liquidità alle imprese in difficoltà a favorire l'accesso al credito la Camera di Commercio di Crotone sta lavorando da tempo in questa direzione. Vediamo questo servizio. Garantire alle imprese del territorio la liquidità di cui hanno bisogno in questo momento storico e di conseguenza le facilitazioni all'accesso al credito. A Crotone il commissario della Camera di Commercio Alfio Pugliese ha promosso un tavolo con le associazioni di categoria che fanno parte di Rete Imprese Italia e di alcuni istituti bancari del territorio. Abbiamo individuato lo strumento che è uno strumento che si appoggia su un cofidi e si rivale su dei fondi ministeriali in base alla legge 108 sulla legge anti-usura. Che cosa prevede questo tipo di strumento? Che prevede una garanzia reale e immediata alle imprese che hanno delle difficoltà e grazie a questo strumento si dà la possibilità agli istituti di credito di poter erogare del credito a disposizione del mondo delle piccole e medie imprese che ne hanno necessità. Sono strumenti che noi consideriamo strumenti di inclusione di nuovo nel mondo lavorativo perché va a accropire tutta quella platea del pubblico, delle piccole e medie imprese degli artigiani e dei commercianti che non sono riusciti neanche con lo strumento del medio credito centrale quindi con la garanzia di Stato ad ottenere dei finanziamenti. Proprio la norma che va a regolamentare la legge 108 parla di inclusione parla di superamento di tutte quelle criticità che gli strumenti ordinari non danno ed è per questo motivo che la Camera di Commercio di concerto anche con l'amministrazione comunale di Grotone che ha condiviso appieno la progettualità messa in campo dalla Camera di Commercio di Grotone e dell'associazione insomma dei cofili a brevissimo pensiamo di riuscire a dare una risposta soddisfacente che avere in conto sia alle esigenze del pubblico delle piccole e medie imprese dei piccoli imprenditori e sia alle esigenze di coloro i quali con noi devono collaborare quindi le banche ed è per questo motivo che appunto nei giorni scorsi abbiamo avviato una proficua e interessante interlocuzione col mondo bancario abbiamo iniziato col San Paolo Banco di Napoli che è la seconda gruppo bancario italiano di cui ha diversi sportelli nel nostro territorio e ha dimostrato un interesse particolare verso questo tipo di strumento per rendere in conto a queste esigenze di liquidità del mondo delle piccole e medie imprese Restiamo nel capoluogo pitalorico perché il Comune ha deciso di destinare alle imprese del quartiere Marinella i fondi raccolti all'indomani dell'ondata di maltempo del novembre scorso che lo ricorderemo tutti provocò danni pesanti al commercio la raccolta fondi venne realizzata in collaborazione con il bisettimanale Il Crotonese vediamo il servizio Saranno i titolari di micro, piccole e medie imprese ubicate nel quartiere Marinella uno dei più colpiti dall'alluvione del 20 e 21 novembre scorsi i destinatari del contributo che è stato possibile erogare grazie alla campagna di raccolta fondi lanciata dal Comune di Crotoni in collaborazione con il giornale Il Crotonese sul conto corrente dell'ente aperto per l'emergenza alluvioni sono arrivati oltre 60.000 euro l'amministrazione dopo aver preso atto delle schede di segnalazione dei danni presentate dalle attività commerciali al Comune e alla Camera di Commercio ha deliberato di definire gli indirizzi per la corresponsione dei contributi agli operatori economici danneggiati dagli eventi alluvionali Il contributo sarà commisurato a quanto dovuto per la Tari per l'anno di imposta 2020 e non potrà essere inferiore a 300 euro L'assessore alle attività produttive Luca Bossi nel corso delle ultime settimane ha avuto una serie di incontri con le associazioni di categorie e con la Camera di Commercio in considerazione del fatto che gli eventi alluvionali hanno colpito le attività commerciali ed in particolare quelle a 26 operative nel quartiere Marinella Il contributo sarà erogato dietro presentazione di specifica istanza al Comune utilizzando la modulistica che sarà pubblicata nei prossimi giorni sul sito dell'ente L'iniziativa è stata parallela alla richiesta di dichiarazione di stato di emergenza che il Comune ha deliberato il 23 novembre per dare ristoro ai soggetti maggiormente danneggiati dall'evento in via complementare non alternativa ad eventuali contributi straordinari di provenienza statale o regionale Segnali di solidarietà ha detto il sindaco Vincenzo Voce sono giunti da ogni parte d'Italia ed ogni piccolo o grande contributo è stato donato con grande senso di solidarietà accolto con grande riconoscenza perché fatto con il cuore un incendio è divampato all'alba di oggi in un capannone in località Guadimare siamo nel comune di Paola sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Cosenza ma anche dei distaccamenti di Paola e Rende con autoscale da Rossano e Cosenza nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita ad essere interessato dal rogo un magazzino situato al primo piano della struttura di circa 2000 metri quadrati adibito a deposito e attività commerciale le fiamme hanno provocato danni e annerimento da fumo al supermercato Conad situato al piano strada sul posto a coordinare le operazioni di spegnimento è intervenuto il comandante provinciale di Cosenza Giuseppe Bennardo adesso sono in corso gli accertamenti per risalire all'origine dell'incendio nessuna ipotesi viene al momento esclusa è stato approvato il progetto definitivo per il potenziamento infrastrutturale del porto regionale di Le Castella lo comunica l'amministrazione guidata da Maria Grazia Wittemberga si tratta di un progetto da 5 milioni di euro finanziato col Port Calabria inserito nel piano regionale dei trasporti Uniter dichiara il sindaco che va avanti da quasi 4 anni e che si avvia verso la fase concreta dell'inizio dei lavori l'ammissione al finanziamento è stata disposta con decreto dirigenziale della regione Calabria La pagina della cultura Anna Nigro artista di Castrovillari esporrà alcune delle sue opere nell'ambito delle iniziative collaterali in programma al Festival di Sanremo L'artista castrovillarese Anna Nigro esporrà dal 5 al 19 marzo 2021 presso la sede Ligure di Milano Art Gallery la galleria La Bomboniere in quel di Sanremo in concomitanza con il Festival della Canzone Italiana l'artista da diversi anni vive e lavora a Pistoia mantenendo però sempre forte il legame con la sua città natale dove fa spesso ritorno Ora mi sento felice di ritornare sempre comunque nella mia terra nonostante ora faccio parte di questo mondo artistico non solo territoriale L'opera in esposizione a Sanremo è dedicata a un suo caro amico musicista compositore pianista il maestro Alfonso Di Rosa di origini siciliane della provincia di Agrigento è trapiantato ormai da più di 10 anni a Milano L'opera ritrae il maestro mentre compone le sue opere con un angelo che gli fa compagnia l'artista Nigro dice la sua arte è talmente bella da sembrare che lui suoni in compagnia degli angeli Anna Nigro ha una palmaresse di grandi riconoscimenti l'ultimo in ordine di tempo il quarto premio al prestigioso concorso d'arte La Signora delle Stelle dedicato alla memoria della grande astrofisica Margherita Hach l'evento era stato organizzato e presentato dal curatore di mostre grandi eventi Salvo Nugnes con il contributo di numerose personalità del mondo della cultura e dello spettacolo tra questi il grande critico d'arte Vittorio Sgarbi che di lei dice Anna Nigro che avanza nella luce una luce diciamo noi che da anni la proietta verso concorsi e mostre lungo tutto lo stivale e anche oltre confini nazionali Per l'evento di Sanremo Anna Nigro ha ricevuto il prestigioso attestato di selezione firmato dal grande manager Salvo Nugnes Il mio slogan è un'emozione un quadro cioè io sono molto istintiva mi reputo una velocista nel senso che una grande emozione mi porta subito a trovarmi davanti ad una tela non sono brava con le parole sono brava solo con i miei colori e quindi tutto ciò che mi accade durante un anno oppure in una situazione in particolare diventa subito motivo il titolo di una mostra mia personale La mostra avrà inoltre il contributo di Roberto Villa fotografo di fama internazionale ed amico di Dario Fo e Pasolini la Nigro che da poco ha realizzato su commissione del comune di Pistoia la cartolina che accompagnerà i festeggiamenti per l'anno Giacobbeo e il manifesto della 63esima edizione del Carnevale di Castrovillari è impegnata con le sue opere fino ad agosto del 2022 La pagina sportiva il Crotone per il Crotone un altro impegno gravoso contro il Sassuolo non c'è spazio per fare calcoli occorre solo la vittoria derby sul filo del rasoio per Cosenza e Regina che andranno in campo lunedì sera nessuna delle due può permettersi una sconfitta una sorta di ultima spiaggia è un derby che si giocherà sul filo del rasoio questi i due appuntamenti più importanti nel weekend calcistico in Calabria in Serie A il Crotone dopo tre sconfitte di fila prova a rimettersi in corsa ospitando in casa il Sassuolo non è la prima volta in questo campionato per il Rosso Blu ma dopo le vittorie contro Spezia Parma e Benevento tutto quello che di buono era stato fatto è servito a poco 12 punti non sono tanti ma sono gli stessi alla ventunesima giornata del primo campionato di Serie A terminato poi con la clamorosa storica salvezza quella di domani sembra un'occasione quasi unica per la formazione di Stroppa che proverà a compiere un ulteriore scatto verso la salvezza ben conscia però che il maggior numero dei punti li dovrà guadagnare sul proprio campo con o senza pubblico pandemia a parte il mercato ha regalato due attaccanti di categoria purtroppo nessuno è arrivato a rinforzare un reparto difensivo che è il vero punto debole della squadra vorrà dire che ora più che mai il Crotone sarà comunque costretto a segnare sempre un gol in più degli avversari e poi c'è il derby di lunedì sera che si giocherà come dicevamo sul filo del rasoio nel senso che né Regina tanto meno Cosenza possono allentare la guardia gli Amaranto dopo il doppio successo a pescare contro Lentella hanno dato una poderosa accelerata al proprio cammino ma la quota 25 in classifica non è certo una comodità vietato Ruzzoloni e disattenzioni perché dietro c'è un Ascoli che è tornato a fare punti pesanti e un Pescara che ha fermato addirittura il Lecce ancora più complicato il discorso per il Cosenza in piena zona play out contro la Regina Occhiuzzi non potrà fare più calcoli per due motivi il primo chiaramente è legato alla classifica e un'eventuale sconfitta complicerebbe maledettamente il proseguimento della stagione il secondo è legato ad una questione di risultati quanto durerà l'astinenza dalla vittoria in casa perciò prima arriverà e prima sarà un bene per il clan del presidente Guarascio e se poi dovesse arrivare proprio nel derby sai che goduria che tempo farà nelle prossime ore ce lo spiegano gli esperti di trebimeteo.com Buona giornata Buona giornata da Nico Schiodetto Domenica aria gelida continuerà ad affluire dai Balcani verso tutte le nostre regioni con gran freddo e ancora dei fenomeni che si attarderanno all'estremo sud e sul basso Adriatico nevosi a quote bassissime al nord invece guardate come un campo di alta pressione tra la Spagna e i paesi oltre alpe favorirà un sensibile miglioramento con condizioni di bel tempo andiamo al dettaglio quindi della nuvolosità ancora gran variabilità al sud e sul medio basso Adriatico invece al nord e sul medio alto versato Tirrenico una bella giornata assolata ce lo conferma poi la mappa delle precipitazioni zoom Mediterraneo con questi fenomeni ancora sulla parte Adriatica e al sud nel dettaglio quindi bella giornata per il centro nord e di lato Tirrenico torna il sole anche tra Toscana e Lazio mentre nella parte a oriente dell'Apennino quindi verso il lato Adriatico ancora nevicate Abruzzo Molise Puglia Basilicata e poi piovaschi con neve a quote basse anche tra Calabria e nord Sicilia venti qui ancora forti da nord aria gelida e mari molto mossi tutti i dettagli precisi li trovate come sempre scaricando l'app di Travi Meteo è tutto per il momento grazie per averci seguito la nostra informazione tornerà più tardi buon sabato grazie per averci seguito grazie per averci seguito